Primo dei 5 round titolati che va nettamente a favore di Sterling Allora ragazzi, ora vorrei rivolgermi un attimino a quelli che nei commenti mi infamavano e mi dicevano Eh, ma come una sminchio difesa, ma siamo matti qui Guardate sto primo round, guardate questo primo round Ora sicuramente Dilascio ha qualche problema perché l'ho visto parecchio sofferente, si toccava la spalla Però ragazzi guardate questo primo round Secondo round arriva lo stop, a mio avviso anche Tardivo da parte di Mark Goddard Che comunque sia fa prendere una caterba di cazzotti al povero Dilascio Ormai compromesso all'infortunio Un Dilascio che poi ha cercato anche di fare il suo, poverino perché comunque è rimasto a combattere senza tirarsi indietro Ma io sinceramente fossi stato nel team avrei gettato la spugna molto prima perché sicuramente era mega vitali tutti questi cazzotti Detto ciò ne esce un campione Sterling che ha fatto anche un'esultanza troppo concitata per aver vinto un match del genere E si fa odiare ancora di più Però ragazzi è lui campione, ha dominato in maniera netta e a questo punto vedremo cosa gli porterà il futuro Perché comunque sta iniziando a fare un po' di terra bruciata Primo round tra Makachev e Oliveira Un round dove tutto è ancora aperto ragazzi però sta venendo fuori la pressione di Makachev Che riesce a portare a terra Oliveira, a schiacciarlo, a contenerlo e anche a percuoterlo Anche se Oliveira comunque si mantiene molto dinamico e perciò potrebbe tirare fuori qualche magia dal cilindro Però ragazzi il punteggio sta avvertendo chiaramente in favore del Daghestano Ed Islam Makachev è il nuovo campione dei pesi leggeri UFC Devo essere sincero ragazzi, devo essere sincero Io tifavo per Oliveira perché era l'unico modo per sperare di poter rivedere Khabib Era l'unico che poteva rimettere in discussione la legacy di Khabib A questo punto Makachev che comunque sia è un embrione di Khabib È un Khabib 2.0 È riuscito a battere Oliveira con anche una componente di striking importante E non c'è nulla da fare ragazzi Non c'è un antidoto ai Daghestani Ma attenzione ragazzi c'è stato un call out, colpo di scena Perché Makachev, anzi a dire vero Khabib Per conto di Makachev ha sfidato Volkanovski Che è chiamato a combattere contro l'attuale quindi campione dei pesi leggeri In un match che Volkanovski ha accettato praticamente subito Entrando subito nell'ottagono e stringendo la mano a tutti Quindi non è ufficiale ma manca solo il consenso della promotion E probabilmente potremo vedere questa super sfida Che entrambi hanno tenuto a chiarire che non è per le cinture Ma è per il number one pound for pound di tutto il game sport da combattimento Quindi tanta roba ragazzi veramente Che dire un evento Un trionfo del Daghestan perché è questo questo evento Abbiamo capito che laggiù nascono i combattenti migliori E che la scuola daghestana sulla lotta, sul grappling È il livello da abbattere per tutti ragazzi Cioè anche la versatilità di Oliveira Non ha potuto niente con la concretezza di Makachev Ditto ciao, fatemi sapere la vostra nei commenti Noi ci rivediamo fra breve Un saluto all'Italian Fight Magazine Il più grande canale di MMA Che parla italiano CBA Never said I've been on my ground for 7 days Need a race Swear to god it'll never be the sa'n TBH D-D-D-T-DBH Yeah